salve bentornati sul mio canale oggi voglio fare un piccolo video sempre interattivo naturalmente ma un po più specifico nel senso che mi è stato richiesto e può anche essere utile a tante persone se sono dello stesso segno di chi mi ha richiesto il video intanto io lo faccio per lei che è una bilancina dunque chiediamo se la donna bilancia è lui che è un gemelli e l'uomo gemelli se sono solo amici o se lui prova qualcosa di più premetto che la bilancina mi ha detto che si conoscono da molto tempo vediamo se questo gemelli non dico gli anni ma io me li sono scritti prova un qualcosa di più per la bilancina oppure cosa prova questo ragazzo per questa ragazza lui gemelli lei bilancia scelgo questi io credo che perché ci sono delle risposte che probabilmente nel passato lui ha avuto un periodo in cui provava veramente diciamo una forte attrazione per questa donna e in effetti eccola qua lei lo affascina dunque tu cara lo affascini senz'altro è molto attratto da te o in partenza era molto attratta vedo un cambiamento novità certo senza conoscervi non è così facile da capire sì lui è libero tu no ma voi vi conoscevate prima ancora che tu ti sposassi perché credo che il cambiamento di lui è dovuto al fatto che lei non è libera spero che non mi stia sbagliando che non sia il contrario ma non credo e ho l'impressione che vi vedevate di più in passaggio in passato scusa ora vedo alti e bassi nei momenti più di apertura dei momenti un po po di dispersione di chiusura però credo che comunque lui si trovi molto bene in compagnia di questa donna io vedo la donna un po triste perciò è tutto è possibile anche se questa amicizia è di lunga data per riassumere un po quello che ho visto fino adesso ci sono dei momenti in cui lui avrebbe voluto magari dichiararsi oppure in cui era più attratto più portato verso di lei ma lei non essendo libera penso che lui ha fatto marci indietro che questa è una è uno dei motivi importanti che fa che lui si freni e però più passa il tempo e più l'affinità fra queste due persone è forte l'affinità non è perché due sono amici che non non ci debba essere l'affinità può esserci e come dunque col passare del tempo si rendono conto che molte cose li lega c'è un legame importante che dà molta soddisfazione ad entrambi dunque fa piacere a lei fa piacere a lui ho l'impressione che lui porti una divisa se non ha la divisa la divisa non vuol dire che è un militare può essere un militare ma può essere anche per esempio qualsiasi persona che deve mettere che si deve vestire in un modo specifico per lavorare dunque può essere anche uno che lavora nell'agenzia immobiliari non lo so può essere tante cose se non è quello vuol dire che lui è una persona molto che diciamo di impeto è una persona attiva una persona che fa molte cose e sicuramente prova un'attrazione forte per lei prova un'attrazione forte ho l'impressione che lui pensa che potrebbe essere lei la donna giusta per lui però non oltrepassa la barriera forse fa bene cara perché così mantenete questa amicizia a lungo perché perché questa vi porta a essere molto legati a stare bene in un certo senso e probabilmente il tempo che è passato lo porta o lo ha portato a trovare un modo di regolarsi un modo di saper vivere e gestire questa questa relazione diciamo perché anche fra amici si tratta di una relazione no io non parlo di di un fidanzamento o cose così diciamo che ci sono dei momenti in cui sicuramente il gemelli è più più portato verso la bilancia la donna e dei momenti in cui riesce a frenarsi di più sicuramente c'è una parte che è pure giusto no il gemelli ha un doppio segno non vuol dire che ha una doppia faccia come tanti dicono per per facilitare il compito è che lui ha una doppia personalità dunque dentro di lui cesto gemelli che attacca che va avanti quello che ho detto che ho portato la divisa oppure un uomo molto attivo che si dà da fare poi c'è un altro gemelli quello che magari contrariante quello che lo frena quello che gli dici ma cosa stai facendo forse stai sbagliando e questo porta sta duplicità ad avere spesso dei dubbi perciò lui magari davanti a tutto questo percorso la povera bilancina lo vede diverso ecco perché si chiede ma cosa vuole da me o cosa prova per me ma devi sempre tenere conto che lui è il segno doppio e che magari riesce in un certo modo a non fare un passo in più perché c'è l'altro gemellino che gli dice sbagli se fai di più perché lei non è libera o per tanti motivi per ovvi motivi ma soprattutto perché lei non è libera dunque posso dire come riassunto che sicuramente questa amicizia lunghissima da lunga data fra l'uomo gemelli e la donna bilancia è una bellissima amicizia lo prende molto mentalmente e per un gemelli la mente è tutto e perciò se dura da così tanto tempo è perché prova un'attrazione particolare per lei ma riesce a non oltrepassare diciamo la barriera che è quella giusto visto che lei non è libera e dunque lui dà tutto quello che può dare a questa amicizia senza poi andare a rovinarla chiedendo di più va bene cara? auguro a tutti un buon pomeriggio un abbraccio a presto da Alba grazie a tutti